Ammoniremo l'euro e coglieremo una nuova moneta! E il tararo lo stiamo! Secondo! Alfredo, Alfredo, non sta a dirne niente, lo so che sono in ritardo, ma le strade sono tutte piene di buche e con la coppa dell'olio vuole arrivare almeno oggi a Casla, tranquillo. No, no, non ci siamo, Adolfo, non vanno bene. Angelo, dagli un'occhiata, controlla bene. Ma dai, non vanno bene, ma non ti fissare! Mi servono anche? Quante volte te lo devo dire? Senti, siamo pronti a secedere, a secerne, a secessionare, come Ostrega si dice. A fare la secessione? Quasi. Quando è che lo tiri via quel manifesto lì, Alfredo, dai? E' acqua passata, mi fa venire la rabbia. E' che la gente non merita, si sono fatti convinci dallo slogan dello stupido chi paga le tasse è un mona. Certo che chi paga le tasse è un mona, c'è bisogno di scriverlo. E allora Rodolfo Faretto sai cosa farà? Li manderà tutti a cagare! Giusto, ho fatto bene. Senti un po', Adolfo, e questi cosa ne facciamo? Li porto via io, parteciperanno alla causa dell'intonaco di casa mia. Ti saluto, Alfredo! Ciao, Adolfo! Dai, forza, avanti, dai!